E' stata presentata nella sala multimediale del Comune di Napoli Agendo 2012, l'agenda del gruppo d'impresa sociale Gesco che ogni anno si ispira a un diverso tema dell'attualità, dal lavoro alla clandestinità. L'edizione di quest'anno è dedicata alla democrazia partecipata, a quei movimenti, dagli indignados delle piazze spagnole ai ciclisti della massa critica molto attivi anche a Napoli, che segnano la ribellione dal basso contro le disuguaglianze e i modelli di vita della civiltà dei consumi. Progetto culturale e sociale insieme, Agendo rivolge uno sguardo sul mondo attraverso fotografie e contributi letterari, curati dallo scrittore Guido Piccoli. Fra i testi dell'edizione 2012, frammenti storici di Gramsci, Saramago, Cortazar, Chomsky e pezzi d'occasione, tra cui un intervento del sindaco De Magistris. Una parte dei ricavi sarà devoluta all'Associazione Argentina Adesam, che si occupa di disagio psicosociale.